La prima cittadina di battipaglia Cecilia Francese rende nota ai cittadini su Facebook che è stato pubblicato sul sito della Regione Campania il bando rivolto alle famiglie con almeno un figlio al di sotto dei 15 anni di età prima del 5 marzo 2020. Tale bonus quantificato di 500 euro per i 6 inferiore a 20.000 euro e bonus di 300 euro per i 6 compreso tra 20.000 euro e 35.000 euro può essere impiegato per l'acquisto di strumenti informatici utili al bambino o ragazzo per l'attività didattico per sostenere i costi di una babysitter. A tal proposito va sottolineato che tale bonus non è accumulabile con bonus statali della stessa natura. Si potrà inviare la domanda compilata opportunamente ed in pdf insieme a carta di identità e i 6 aggiornato sempre in pdf del genitore che ne fa domanda direttamente sul sito della Regione dalle 9 di lunedì 27 alla mezzanotte del 7 maggio. Era pubblicata una gradatoria per redigere la quale si terrà conto del numero di under 15 nel nucleo familiare e della minore età del figlio.